Dare assistenza agli anziani è la priorità chiave dei servizi sanitari e sociali dell'Europa. Gli Over 65 sono in tutti i paesi sviluppati di gran lunga i principali destinatari delle prestazioni sanitarie. Ma non basta dire che gli anziani devono essere curati, è fondamentale che queste cure siano di qualità, sostenibili dal punto di vista economico e che mettono al centro la persona. Questo è il punto di partenza dell'assistenza a domicilio, assistere le persone a casa loro, permettendo a chi ha bisogno di assistenza prolungata la migliore qualità di vita possibile, in particolare per i disabili, i malati cronici e le persone non completamente autosufficienti. La tecnologia ormai da qualche anno può dare un contributo decisivo. Di tutto questo si è parlato al convegno dedicato alla tecnoassistenza, con un sottotitolo molto eloquente, come assistere gli anziani a casa loro. Ne abbiamo parlato con Roberto Bernabè, il presidente di Italia Longeva, che ha organizzato il convegno. Tutti avranno sentito tante volte la parola telemedicina, cioè fare assistenza a casa di una persona che altrimenti magari dovrebbe stare in ospedale o ha bisogno di una serie di controlli che possono essere fatti a casa. Telemedicina è caratterizzata però da apparecchiature molto grosse, ingombranti. Oggi con i telefoni, i palmari, le app e quant'altro ci sono delle modestissime, piccole, molto user-friendly centraline dove hai l'elettrocardiogramma, la pressione, la frequenza, se stai in piedi o sei caduto, la pressione dell'ossigeno, la tensione di ossigeno. Cioè hai la possibilità di averci un quadro dei fattori vitali di una persona in modo molto semplice, tecnologico appunto e anche molto piccolo. Questo mondo che poi c'ha anche magari il controllo della temperatura della casa o c'ha anche delle procedure tecnologicamente più complesse, non è più telemedicina, è tecnoassistenza. Con un numero sempre maggiore di anziani nella società, l'impegno fondamentale è quello di garantire l'assistenza di qualità a condizioni sostenibili, riducendo i costi senza tagliare l'assistenza e impegnandosi a garantire il miglior livello possibile di salute. Che ruolo può giocare la tecnoassistenza nel controllo dei costi? Ma è evidente che si riducono i costi. Oggi il problema della sanità è soprattutto il problema del costo del lavoro. Il costo del lavoro è alto perché le braccia costano. Rimanere a casa, deospedalizzare con degli strumenti che magari costano. La centralina di cui parlavo prima può costare 50-70 euro al mese di affitto. Diventa un modo molto semplice per impedire che improvvisamente invece uno debba accedere al pronto soccorso perché ha un fiato un pochino più corto oppure un mal di testa che non sa da dove sia nato e cresciuto e che questo innesca forzosamente un meccanismo che non è solo di andare al pronto soccorso, vuol dire poi essere ospedalizzato, vuol dire soldi. Nel convegno dedicato alla tecnoassistenza si è parlato di molte esperienze fatte, di progetti pilota ed iniziative di diverse regioni, ASL e altre istituzioni del territorio. Ancora di più sono le sperimentazioni tecnologiche e le innovazioni su piccola scala. Insomma, in molti casi la tecnoassistenza è già una realtà, ma si tratta di realtà piccole su scala locale che hanno mostrato grandi benefici ma che sono ancora lontane dal rappresentare una risorsa reale per il sistema sanitario e per i cittadini. Che cosa si deve fare per arrivare a un'applicazione più estesa della tecnoassistenza? Ci sono cose straordinarie in questo senso, ci sono esperienze, ci sono un mucchio di sperimentazioni che hanno avuto successo. Oggi c'è da mettere tutto questo a standard, decidere cosa fare di tecnologico nelle case degli italiani prevalentemente anziani. L'invecchiamento della popolazione è uno dei fattori sociali più importanti in Italia e in Europa e in tutto il mondo sviluppato. È chiaro che si tratta di un costo importante che può mettere a dura prova i sistemi sanitari e sociali, ma forse non è corretto vedere l'invecchiamento della popolazione solo come un costo. Proprio le nuove tecnologie, oltre a rappresentare una soluzione di qualità a un costo sostenibile, possono rappresentare anche una possibilità di sviluppo economico e una prospettiva concreta per il futuro. Se pensate che tutto il mondo occidentale invecchia, non solo l'Italia, l'Italia è invecchiata un po' di più, quindi avrebbe il vantaggio di sperimentare e produrre macchinari tecnologici che poi magari andiamo a vendere in tutto il mondo. Questo si chiama opportunità.